Ciao a tutti Ciao a tutti, sono Matteo Brenci, insegnante di chitarra moderna della Scuola di Musica del Capo. Purtroppo quest'anno non ci potremo vedere agli Open Day, per cui abbiamo pensato di realizzare questi video per farvi capire meglio in cosa consistono i nostri corsi. Purtroppo quest'anno non ci potremo vedere. Purtroppo quest'anno non ci potremo vedere.